L'ha contattato Per avere Ciao pipis e benvenuti sul mio canale youtube Il mio nome è Carmi E siamo riuniti qui oggi Per cominciare una nuova serie Ebbene sì, una nuovissima rubrica Io a questo punto, amici miei, sono diventato Netflix Perché vi sparo continuamente tutte queste cose E dico iniziamo, iniziamo E poi le iniziamo E continuo e ne aggiungo altre Non lo so, sto completamente una free subscription E io continuo a sfornare cose Quindi spero voi siate pronti Oggi andrò a fare qualcosa che sinceramente È da un bel po' che volevo fare E credo sia arrivato il momento Perché certe volte mi prefisso delle cose nella mia capoccia Che voglio effettuare, che voglio cominciare E poi inizio ad avere un sacco di self-doubt Dove inizio a dire Ma sarà una cosa interessante? Sarà qualcosa che possa piacere? Sto facendo una camolata allucinante Però secondo me è importante che alla fine Ci sia sempre un dialogo tra di noi Quindi spero voi siate pronti Perché oggi voglio parlarvi di questa nuova rubrica Come vi dicevo Che si chiama Esperienze di vita Veramente molto facile Non è assolutamente groundbreaking Però volevo Chiacchierare un po' con voi Farci un pochettino di compagnia In questi momenti che sono Un pochettino difficilotti Un po' per tutti Sinceramente Tantissimi di noi Me compreso Ogni tanto ci sentiamo veramente soli Ci manca la famiglia Ci mancano le nostre abitudini quotidiane Quindi spero voi siate pronti Perché oggi per inaugurare questa rubrica Ho pensato di parlare di qualcosa Che secondo me ci accomuna tantissimo Qualcosa che credo Veramente che sfortunatamente Tutti noi siamo incappati almeno una volta E sto parlando delle finte amicizie Quelle amicizie che veramente non fanno per noi Quelle amicizie che abbiamo provato Veramente a far funzionare Perché volevamo che ci fosse quel senso di community Volevamo che ci fosse un punto di riferimento Nella nostra vita E per un modo o per un altro non ha funzionato E quindi oggi voglio parlare della mia esperienza personale Oggi voglio parlare di un'amicizia che avevo Che credevo essere un'amicizia molto molto duratura Molto forte E che in verità si è rivelata qualcosa di assolutamente tossico Qualcosa che sono molto contento oggi Di poter dire che ho fatto forse la miglior cosa E quella cosa è Mi sono allontanato Quindi spero voi siate pronti Andremo naturalmente a truccarci E soprattutto andremo a sorseggiare Tantissimo caffè Questa tazza è della tazza di Friends E quindi si ci azzecca proprio oggi a pennello Quindi con un bel sorseggio lungo lungo Noi ci pittiamo e ci chiacchieriamo In questa bella giornata Dove fa un sacco di freddo oggi Infatti preparatevi perché da oggi in poi Maglioncini a raffica Iniziamo subito Bibis Da un po' la backstory Come io e questa persona ci siamo conosciuti Naturalmente non vi posso dire Il nome o cosa del genere Però cercherò di farvi capire Quanto è più possibile la situazione E ultimissima cosa Prima che comincio Se vi ispirano i prodotti che sto utilizzando Ve li lascio come sempre tutti giù in description Però non vi nomino i prodotti Perché sennò perdiamo il filo Della situation qui Quindi vi posso dire che io e questa persona Ci siamo conosciuti Più di dieci anni fa Era ancora il periodo in cui vivevo in Italia Alcuni di voi forse sanno che Questo mese a novembre Il 23 di novembre Io compio il mio decimo anniversario Qui a Londra Quindi è da un po' che io e questa persona Non abbiamo più nessun tipo di comunicazione Ma come ci siamo conosciuti? Allora, vi ammetto subitissimo Che io e questa persona Ci siamo conosciuti online Su una chat di incontri Ambedue stavamo cercando Qualcosa di più Di un'amicizia Ma abbiamo subito Siamo subito arrivati alla conclusione Che effettivamente non eravamo Each other's type Sinceramente fisicamente In maniera molto Non eravamo attratte l'uno dall'altro Ecco, detta proprio così Però In maniera mentale Avevamo davvero tantissime cose in comune Ci piacevano le stesse cose Mi stessi interessi Ci piaceva la stessa musica E comunque vi dico All'epoca Avevo 18 17-18 anni Quasi 18 sinceramente Quindi mi raccomando Io non ho avuto un sito di incontri A meno di 18 anni E vi posso dire che cosa Che abbiamo deciso comunque di Conoscerci eventualmente Perché C'era proprio questo feeling Che era diventato più un feeling Mentale Come voi sapete Come vi spiegavo l'altra volta Per me L'attrazione mentale È sempre stata molto più importante Dell'attrazione fisica Ma comunque sapevamo che Non sarebbe comunque Nato nessun tipo di amore O se fosse un amore Sarebbe stato comunque Sempre solo platonico E infatti vi posso ammettere Che Così fu Ci siamo conosciuti Abbiamo subito Cliccato Come si suol dire Siamo subito trovati molto bene L'uno con l'altro E siamo diventati amici Sin dal primo giorno Non c'è mai stato niente di Fisico E non c'è mai stato Il desiderio fisico Quindi Tanto per dirvi che È stata proprio un'amicizia Dall'inizio Siamo rimasti amici E comunque siamo Cresciuti tantissimo insieme E ci siamo Comunque coinvolti Nella vita propria Nella vita dell'altro Per almeno Tre anni E Devo dire che in questi tre anni Ne abbiamo fatte di cose Lui ha acquistato All'epoca Una casa L'ho aiutato Col trasferimento Mi ricordo che Agli inizi E dopo poco Ho anche preso la patente Io quindi Mi ricordo che Guidavamo insieme Facevamo questi Tragitti Lunghissimi Per andare a raccattare Mobili E non vi dico che altro Perché era comunque La macchina era sempre piena di cose Ma era cosa allucinante Quella casa era Strapiena di bellezze Ma mi ricordo che Uscivamo anche la sera insieme Per andare per locali Per conoscere gente Per vedere un po' Che cosa c'era attorno Perché naturalmente Come alcuni di voi sanno Io vengo da Da Treviso E Treviso comunque Per quanto sia una bella città E veramente c'è tutto La nightlife Non è che esiste Più di tanto lì Quindi mi ricordo che Comunque noi Con la macchina Ci mettevamo Viaggiavamo E andavamo Di solito a Padova Dove c'è un po' più di Nightlife Dove si suol dire Ci stanno gli uomini E quando ci stanno gli uomini Io a 19-20 anni Io nella macchina Mi mettevo Pipip Arrivo E chi me si ferma E fino a qui Bivis Vi chiederete Che cosa è successo Come mai Reputo comunque Questa Friendship Una friendship Che secondo me Andava solo Da un lato Invece che dall'altro E iniziamo subitissimo Dicendo che Ogni volta che Questo amico Incontrava qualcuno Per locali O comunque in generale Iniziava a frequentarsi Con Una persona La nostra amicizia Diventava completamente Secondaria Dal vederci Praticamente Quasi tutti i giorni O almeno un paio Tre volte A settimana Minimo Sinceramente Diventava Il messaggio Occasionale Quando proprio Non c'era assolutamente Niente da fare Quindi Non lo so Pensavo a dire Ok Vediamo un attimo Che cosa sta facendo Carmi Mi serve una mano Sinceramente Perché ogni volta Che mi contattava C'era sempre qualcosa Da fare C'erano o questi viaggi A recuperare cose O bisognava andare A fare shopping Cioè Non c'era mai Quella cosa di dire Facciamo un giro Prendiamoci un caffè Ti serve qualcosa Cioè Proprio una cosa Molto easy No C'era sempre uno scopo Per l'incontrarsi O Per lui sfogarsi Perché O la sua relazione Andava benissimo E quindi c'era L'esigenza Da parte sua Di ricordarmi Quanto La sua relazione Fosse So successful So amazing Io qui Io lì Abbiamo fatto questo Cioè Diventava proprio La classica cosa Da Si parla sempre Al plurale E per me È una cosa bellissima Quando due persone Si trovano bene E sono bene insieme Io sono molto felice Perché secondo me Come sempre Io credo Nell'unione Fa la forza Però Siamo anche individui Siamo anche persone Che Possiamo E dobbiamo Continuare a coltivare I nostri interessi E le nostre amicizie E le nostre passioni Al di fuori Della nostra relazione E fare una cosa del genere Non è assolutamente Una cosa negativa Come voi sapete E ve lo dico In maniera easy Io ho degli interessi Completamente diversi Dagli interessi Che Dan ha Abbiamo cose Che assolutamente Ci accomunano Ma altre Che invece no Ma non è mai venuta Idea a me O a Dan Di dire Non fare questo Perché non lo faccio io Ecco E quindi trovavo Sempre che Questa persona Si ritrovava Continuamente In queste relazioni In cui Finché facevano Le stesse identiche cose Insieme Erano rose e fiori Era il mio fidanzato Il migliore del mondo Prima o poi Incontrerai qualcuno Anche tu Così E appena litigavano Apriti cielo Carmi Vieni a casa Prendiamoci il caffè E parliamo di me Di me Di me Di me Di me E solo di me E io Sono dell'opinione Che in un'amicizia Come in qualsiasi Tipo di relazione C'è questa cosa Che si chiama Give and take Devi dare qualcosa Per ricevere qualcosa Però devi dare qualcosa Senza aspettarti Di ricevere qualcosa Questa è proprio una cosa Che bisogna fare Nella vita Se diamo Perché sappiamo Che dobbiamo ricevere qualcosa O diamo perché Vogliamo ricevere qualcosa È quando abbiamo Un'aspettativa sbagliata O soprattutto È quando Forziamo Delle cose Che non dovrebbero essere forzate Io do perché Voglio vedere questa persona felice Io do il mio tempo A questa persona Per sfogarsi Non perché Mi aspetto che faccia lo stesso Spero che faccia lo stesso Perché voglio stargli vicino Perché voglio Aiutare questa persona A sfogarsi A parlare E a Trovarsi Forse Un doppio Un'opinione diversa Ecco Diciamo così E quindi Questa era la cosa Ero sempre Lanciato Da una cosa O un'altra Dal fatto di Se era single Dovevo stare sempre con lui O comunque Io ero La prima E l'ultima cosa Della sua giornata Se invece era in una relazione Diventavo praticamente L'uomo oscuro Che Non lo so Un'ombra Che c'era Ma non c'è C'è Solo se mi servi E poi naturalmente Quando Andava tutto male Io ritornavo Io ritornavo Tranquillamente E Ero di nuovo Al centro Dell'attenzione E appena E appena Questa relazione Falliva Si ricominciava Un'altra volta Il circolo Vizioso Usciamo Perché devo andare A conoscere Gente Facciamo questo Il minuto Il secondo Dopo che Ha conosciuto Chi doveva Conoscere Io ritornavo In seconda Categoria Non vi sto a dire Altri altarini In generale Perché secondo me Già questa cosa Per me Può bastare Per farvi capire Che tipo di persona E che tipo di relazione Era Però E qui Credetemi C'è bisogno di un sorseggio E c'è bisogno di un sorseggio Bello lungo lungo Perché È stato a quel punto Che io personalmente Ho deciso di tagliare Completamente Tutti i ponti Questa persona Mi ha scritto Mi ha cercato Di Riavvicinarsi E vi posso dire Che In maniera brusca Cosa che sinceramente Io non Non tendo a fare Però l'ho dovuto fare Ho completamente Ignorato Qualsiasi tipo di messaggio E ho fatto capire A questa persona Che It was over Non c'era più niente Non c'era più possibilità Perché non solo Mi sono sentito Usato Nel passato Ma ci sono stati Un bel po' Di sfreggi Quindi Vi racconto subito Questa cosa Dopo il nostro sorseggio Sorseggio fatto E arriviamo Al Al succo A dove praticamente Questa relazione Secondo me Dove a cessare Non c'era Veramente Per me Più Redeeming quality Non c'era più niente Secondo me Che potesse far tornare Questa amicizia Ai tempi d'oro O Al divertirsi A uscire E passare quelle belle serate Quelle belle giornate Di shopping In cui veramente All'epoca Eravamo pappeciccia Diciamo così Nel 2010 È stato dove Io ho deciso Di trasferirmi O almeno Di fare Questa vacanza Di due mesi In Inghilterra Per provare a vedere Se potevo imparare La lingua Venendo comunque Da un background Dove io L'inglese Non lo parlavo Per niente E farmi questi Due mesi Di esperienza E poi Se andava tutto bene Come io sognavo Mi sarebbe comunque Piaciuto Viverci Qui in Inghilterra A Londra Precisamente Per almeno un anno Vi posso ammettere Che forse Sarà stata La sua paura Comunque Di perdere Uno dei suoi punti Di differenza Qualcuno che In tre anni Non solo Tutte le volte Che mi ha messo in pausa Io sono sempre tornato Ma che comunque L'ha sempre incoraggiato A Andare avanti In la nostra vita A Spingere Nei suoi traguardi Io non credo Di essere Il migliore amico Del mondo Questa è la prima cosa Che voglio dirvi Che forse avrei dovuto dire All'inizio Però Quando voglio bene qualcuno Ci sono Ci sono sempre Ci sono a tutte le ore Perché è proprio La cosa che mi sento io Di fare Di mio E ancora una volta Non ho mai fatto niente Perché Mi aspetto qualcosa In cambio E Mi ricordo ancora Questa volta Eravamo a casa di Un altro nostro amico In comune E La prima cosa Che Lui disse Quando Abbiamo iniziato Questo Questo argomento In cui Io dovevo Trasferirmi Per due mesi A Londra Era Sarà una grandissima Perdita di tempo Non riuscirai A parlare Con nessuno Nessuno Ti capirà Vai solo lì Per due mesi Spendi tutti i tuoi risparmi Che hai messo da parte E te ne tornerai A casa Senza far nulla Praticamente Questo era proprio Il succo del discorso E credetemi Lì mi sono sentito Veramente Una cacca Perché ho detto Già la situazione È comunque Difficile Perché comunque Era una situazione In cui Stavo venendo a Londra Senza conoscere nessuno Senza avere nessun tipo Di riferimento E nemmeno parlando la lingua E l'unica cosa che avevo Era praticamente Me stesso E una valigia Così Proprio Di quelle mancomini Le mignon Infatti Me l'ho portato dietro Praticamente Quasi il nulla Perché ho detto Vabbè Se almeno mi devo muovere Da una parte E un'altra Ho tutto Velocissimamente Con me Senza Senza che devo andare in giro Con valigione Valigio Tutto quanto Tanto io sinceramente Come persona Mi abituo facilmente A Le circostanze Ma non c'è stato Nemmeno quella cosa Di dire Vai Fai Divertiti Buona fortuna Passa questi due mesi E quando torni Mi racconti tutto E mi fai sapere Come è andata Sono con te No Assolutamente no È stata proprio Una tristezza Utilizzo Questa palette Che ho fatto vedere Su Instagram Che è di Giorgi Cosmetics Questa è un'azienda Che è veramente Molto piccola Infatti Conosco la persona Che ha creato Questa Questa linea Quindi se vi va Andate a dare un'occhiata Ha fatto Questo è uno Dei suoi primissimi prodotti E devo dire Che è stupendo E qualcuno mi ha chiesto Su Instagram Si fanno lo shipping In Italia Senza problemi Quindi ne vado a Prendere un pochettino Vi faccio intanto Vedere come funziona Quindi vi dico Mi ricordo quella sera Ero tornato a casa Di una tristezza Ma di una tristezza Perché mi sono detto Mamma mia Tutte le volte Che ti sono stato vicino Tutte le volte Che anche quando Gli odds Quando proprio Tutto ti era contro Ti sono stato lì Veramente Sempre Comunque Non hai avuto Manco il tempo Di dire Carmi Non ti preoccupare Va come va Andrà benissimo Ma se qualcosa Non va bene Tutto quanto Ci sono Chiamami Messaggiami Whatsappami Mandami un messaggio Su Facebook Un piccione Qualcosa Cioè qualsiasi cosa Che io Avrei fatto Al suo posto Completamente Zero Completamente Zero In assoluto E infatti Mi ricordo Che il giorno Poi che io Sono partito Non l'ho sentito Per settimane 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 Non mi scriveva Non mi rispondeva Ma ha mandato Un messaggio Il giorno prima Dicendo Buona fortuna Ci vediamo Quando torni E basta Non c'è stato Proprio Quella cosa Di dire Mandami un messaggio Quando arrivi Chiamami Ogni tanto Non lo so E immaginate Noi eravamo Pappa e ciccia Noi stavamo Insieme Tutti i giorni Tutte le settimane A questo punto E quindi mi sono detto Ah Cioè veramente Mi sono caduto Proprio dal pero Perché pensavo Di aver Avuto O aver dato Qualcosa Che Facesse sì Che forse Questa persona Mi volesse bene Perché diceva Wow Mi mancherà Carmi Oppure Spero che andrà Tutto bene Per Carmi Non lo so Che vi posso dire Ma aspettavo davvero Tanto da questa persona E ci sono rimasto Malissimo Perché Veramente Gli ho dato tutto E gli ho dato Di più Di quello che ho Dato a qualcuno In vita mia E Ancora lì Ci sono rimasto Molto molto male Però C'è stato Uno sfregio E quello sfregio È stato Proprio Nemmeno la goccia È stata proprio La cascata Che ha fatto cadere Il vaso E da lì L'ho completamente Bloccato Ho detto Basta Non ha più senso Cioè Ho capito Che tipo di persona Sei All'epoca Dopo qualche mese Dopo 3-4 mesi Che comunque Ho iniziato a vivere A Londra Ho deciso di rimanere A Londra Per qualche strana ragione Vi dico Non mi ricordo Nemmeno Per quale motivo Uno dei miei ex Mi aveva contattato E mi aveva detto Come va Carmi Tutto bene Spero tu stia bene Ho visto che sei ancora a Londra Non dovevi tornare Perché io ho detto Guarda io vado solo per Due mesi Infatti avevo preso anche il biglietto di ritorno Mi ricordo ancora Dal 23 di novembre 2010 Al 23 di gennaio 2011 Perché il 26 di gennaio Se alcuni di voi lo sanno È il mio compleanno Quindi ho detto Ok Vado prima di Vado durante Natale Che lo so che Sembra una cosa stranissima Perché a Natale Si vuole passare Con i propri genitori E con la propria famiglia Però ho detto Il Natale a Londra Secondo me Sarà una cosa stupenda E lo era È stato un anno bellissimo Però sapeva che dovevo ritornare E naturalmente Ritornando E non facendomi sentire Mi aveva chiesto Se tutto stava bene Soprattutto per quale ragione Io fossi rimasto a Londra Ecco E io ho detto Guarda Sono felicissimo Sono molto contento Di essere qui Ho trovato lavoro Il 19 di gennaio Probabilmente 4-5 giorni Prima del mio biglietto Di ritorno E io ho detto Alla fine Ho deciso di Prolungare La mia permanenza Di almeno un anno E per vedere Che cosa Che cosa Mi può portare Mal che vada Imparo una lingua nuova Divento un pochettino Più fluido in inglese Quando torno in Italia Questa cosa Mi potrà sicuramente Servire Ci siamo sentiti Ci siamo raccontati E Non mi ricordo Per quale ragione Adesso ho passato Tanto tempo Ma mi ricordo Assolutamente Che è uscito fuori L'argomento Hai parlato Con X Che è questo famigerato amico Lui mi ha detto Guarda Sì Mi ha contattato Allora Vi voglio dire subitissimo Una cosa X amico Con il mio ex Non si sono mai potuti vedere Si odiavano completamente Perché X diceva che il mio ragazzo Di all'epoca Mi controllava E non voleva Che vivessi la mia vita Mentre il mio ragazzo Di all'epoca Mi diceva Che era il contrario Che era in verità X amico Scusate Mi sto confondendo Che non voleva Che io Avessi Un'amicizia O comunque Qualcosa Implicemente Se odiavano a vicenda Ci siamo arrivati Lì Non si sopportavano Non si potevano vedere Credetemi In tre anni Che conoscevo Ambe due Neanche una volta X1 e X2 Si sono Incontrati con me Quindi Già per farvi capire Che non si potevano vedere Quando mi ha scritto Che Il mio amico L'avesse contattato Infatti ho detto Ma come mai Ti ha contattato Tutto quanto Cioè non riuscivo A capire il nesso Ho detto Ma per caso Voleva chiederti Come stavo E capire se stavo bene Perché avevo porre Che non incessi la verità E Qui è dove è uscito Qua dove si è aperto il cielo L'ha contattato Per avere Un qualcosa Avete capito Non era un'amicizia Ma era qualcosa Un pochettino in più Non era una relazione Era quello che ci sta in mezzo Quello che differenzia Un amico da un fidanzato Era interessato Solo a quello Perché Si passava voce Che Che il mio ragazzo Dall'epoca Fosse Avete capito Non c'è bisogno che ve lo dico E naturalmente Voleva capire Di per sé Se questa cosa Fosse vera O no Naturalmente Il mio ragazzo Dall'epoca Naturalmente C'eravamo lasciati Tutto quanto Perché era un maiale Lui non manco Dell'anno del maiale cinese Lui era praticamente Una fattoria Di maiali Naturalmente Si sono visti E quello che è successo È successo E da lì Vi giuro La primissima cosa Che mi sono detto Tra me e me È Se il tuo migliore amico Se qualcuno Che reputi Il tuo migliore amico La tua famiglia Che non è il sangue Del tuo sangue Ma lo reputi Come se fosse Sangue del tuo sangue Ti fa una cosa del genere Dove il momento In cui Tu Non ci sei Deve contattare Il tuo ex fidanzato Per constatare Di per sé Se le cannucce Sono di carta Le cannucce Sono di plastica Io a questo punto Ho detto basta A questo punto Ho ringraziato Il mio ex Per non solo Essere stato Un maiale Allucinante E poi vabbè Lasciamo perdere Che Ne abbiamo fatte De litigate Prima Dopo Durante E ne faremo sicuramente In futuro Ci sarà occasione Non già lo so Però sì Cioè veramente Mi è caduto Un mondo Di come io Mi sono sentito Veramente Non usato Di più E qui arriviamo Al dunque Proprio al succo Di questo video E Che cos'è questo racconto E che cos'è Questa amicizia finta E Cosa Voglio che voi Possiate prendere Da questo racconto Di vita Questa esperienza Mia Ecco La prima cosa Che vi posso dire Se c'è qualcuno Nella vostra vita Che uno Non vi rende felice Che qualsiasi cosa Voi vogliate fare Che sia Una cosa Stupida Stupida come Iscrivervi in palestra Perché secondo voi La palestra Vi farà bene O Cambiare alimentazione Perché alimentazione Vi fa bene O addirittura Cambiare paese Perché secondo voi Ci sono possibilità O ci sono cose Che volete fare Questa persona Non vi sta dietro Non vi incoraggia Dopo tutto L'incoraggiamento Che voi avete dato A questa persona È un'amicizia Che va solo In un modo E credetemi È quel modo In cui siete Replaceable Che siete veramente Lì Perché in quel momento Siete voi Che gli state dando La forza Però se ci fosse stato Qualcun altro Sarebbe stato uguale Perché il momento In cui voi avete bisogno Di questa persona Non c'è Non esiste Non è interessata A capire A capirvi E a supportarvi Perché credetemi Io posso guardare La mia famiglia Come mi ha cresciuto E sicuramente Mia madre Mio padre Mia sorella La mia famiglia In generale Mi vorrebbe in Italia Con loro Mi vorrebbe a Treviso Mi vorrebbe continuamente Attorno Almeno in vicinanza In cui se Dobbiamo vederci Sentirci Ci possiamo vedere Naturalmente Nessuno di loro Preferisce Che io viva A così tanti Kilometri di distanza In un altro paese E lo stesso Anch'io Li vorrei comunque Sempre qui con me Però sanno Che quello che sto facendo Mi rende felice Vivere qui Mi dà opportunità Che all'epoca Non credevo Di riuscire ad avere In Italia E quindi Questa è la cosa Certe volte Per amore Certe volte Per credere In una persona Noi dobbiamo fare Dobbiamo dargli Il supporto Anche se Certe volte Ci rende un pochettino Tristi Perché sicuramente Mia madre sarà trista Che non ci sono Continuamente Ad aprirgli il frigorifero E magnarmi Tutto quanto Però ho capito Che questa decisione Al momento Mi rende felice Vivere qui Mi rende felice E lei basta Che mi sente sul telefono E dice Carmine sta bene Allora Se lui sta bene Sto bene anche io E credo che Un amico Una persona In cui veramente Ci si lega Tanto Deba darci lo stesso Ci debba dare Lo stesso Amore Lo stesso rispetto E se io fossi stato Dall'altra parte Gli avrei detto Vai Conquista il mondo Ci vediamo Ci sentiamo Ci scriviamo tutti i giorni Se hai bisogno di qualcosa Ci sono E in verità No Non c'è stato niente di questo E dopo che ho scoperto Altre cose Dopo che ho scoperto Cose secondo me Che Non lo so Non posso dire che sono più gravi Ma Andare a letto Con il mio ex fidanzato Dopo che Sa le storie Dopo che sa Cos'è successo Tra me e questa persona Non è manco un colpo basso È proprio un colpo Che ti taglio netto Cioè Proprio completamente E lì ho deciso di Basta Devo pensare a me stesso Perché chiaramente Questa Questa relazione Questa amicizia No È una amicizia Assolutamente tossica E quindi Vivi bellissimi Mentre mi sto finito Di mettere Il secondo strato Di mascara Vi posso dire Solo una cosa Sentite sempre Il vostro cuore Sentite quello Che il vostro cuore Vi dice E cercate di capire Che Certo È importante Essere vicino A altre persone Ed è importante Certe volte Dare tanto spazio A loro Quando ne hanno bisogno Ma chiedetevi una cosa Questa persona Vi darà spazio Questa persona Vi ascolterà Quando Sarà arrivato Il momento Quando sarete voi Ad averne bisogno Perché Se la risposta è no E voi lo sapete Per quanto è bello Uscire con gli amici Quando naturalmente Si potrà Per quanto è bello Avere la rubrica Del telefono Piena di nomi Piena di numeri Piena di persone Che Sono lì Che ogni tanto Vi scrivono Vi mandano delle memes O cose del genere Ma quando Veramente è importante La loro presenza Non ci sono Questi sono contatti Che oggi ci sono Domani non esistono Domani Si completamente Si dimenticheranno Di voi E quando Ne avrete bisogno Quando Veramente E questo è il problema Ma quando veramente Ne avrete bisogno Perché credetemi Per Andarsi a bere Una birra Per andare a prendere Un caffè Per andare a divertirsi Tutti sono disponibili Assolutamente tutti Per For a good time Per divertirsi Tutti ci sono Ma il momento in cui Ci sono dei problemi Per il momento in cui Hai bisogno di qualcuno Che ti ascolti Lì è dove Veramente vedi gli amici Dove ci sono quelli che Decidono di non uscire Per andare a fare shopping Ma decisono di rimanere in casa Ad ascoltarti Per telefono Per persona Perché sei molto più importante Di andare a comprare I rossetti E andare a comprare Una maglietta Quelli sono gli amici Che Sono difficili da trovare Ma quando li trovi Lo sai Quando li trovi Tieneteli stretti Ed eccoci qua Vivis Siamo arrivati al termine Del primissimo episodio Della nuova rubrica Racconti di vita Mi raccomando Fatemi sapere Se trovate un nome Più adeguato Anzi Se vi viene in mente Qualche bel nome Su come chiamare Questa rubrica Scrivetemelo giù Così Vediamo Quale sarà il più votato E chiameremo Questa rubrica Proprio così Quindi vi aspetto Numerosissimi Cerchiamo di trovare Un bel nome Io spero tantissimo Che vi sia piaciuto Io spero tantissimo Che ascoltarmi E aprir Il mio cuore Alle mie esperienze Vi piaccia E non vi annoi Se qualcuno Si è addormentato Posso capire Però grazie Grazie perché Credo che Video del genere Non solo Spero tantissimo Aiutino voi A capire che Certe volte Veramente Non importa chi siamo Da dove veniamo Abbiamo tutti quanti Un po' gli stessi problemi Abbiamo tutti quanti Incontriamo tutti quanti Nella nostra vita Tantissimi challenge Che certe volte Possono essere uguali A tutti Quindi Questo è il mio modo Per dirvi che Non siete soli E anche il mio modo Per lasciare Questi fantasmi E questi scheletri Via dal mio armadio E dirgli per una volta Per tutte Goodbye È stato bello Ma te ne devi andare Quindi Grazie come sempre Siete assolutamente La mia terapia preferita Prima o poi Mi raccomando Datemi il vostro Paypal Così te pago E io Vado a raccattare Il mio caffè Che oggi Si è visto poco Ma credetemi Ho sosseggiato Ansai Ansai E come dico sempre Always remember Like if you like Hate if you hate And until next time Un bacio gigantesco A tutti i miei psicologi Perché siete praticamente Tutti quanti voi Scusatemi Ma Questo video Era bello Succoso 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 Succoso